L'idea di una rappresentanza di una situazione del lavoro tutta uguale, tutta omogenea è chiaramente fuori dal tempo, ci vuole una rappresentanza che sappia cogliere le differenze, che sappia però regolarle, che sappia rappresentarle appunto. E l'altro elemento più difficile è quello di mettere la rappresentanza al servizio anche della responsabilità, quindi serve una rappresentanza che sappia collegare sempre il bisogno, il disagio alla capacità di costruire delle nuove soluzioni senza chiudersi nelle certezze di un tempo che non torneranno magari più come erano, ma costruendo nuove solidarietà, nuove prospettive, nuove tutele per un nuovo lavoro. Oggi siamo in tempi nei quali il pubblico sta riducendo i propri spazi, gli interessi collettivi sono sempre più scomposti, meno collettivi, in cui quindi la rappresentanza si muove sul piano della molecolarità e dell'individualizzazione. E quindi la rappresentanza viene svolta sempre di più attraverso i media, la mediazione attraverso i media e gli attori della rappresentanza sono sempre più individuali. Questo è il problema.